Buonasera a tutti, grazie, grazie Giordano, grande opportunità, cerco di essere stringato veloce. Allora, per quello che riguarda il progetto, Lorenzo saprà spiegarlo sicuramente molto molto meglio di me. Allora, abbiamo scelto la missione 2, ovviamente quella della sostenibilità ambientale, perché insomma abbiamo, il mio collega diceva prima, portiamo la terra, noi portiamo le vetture e portiamo i veicoli commerciali, però speriamo di portarne sempre di più vetture e veicoli commerciali elettrici sostenibili, quindi vogliamo portare mobilità sostenibile. Come fare questo? Insomma, la missione l'abbiamo scelta per ragioni molto chiare, cioè quella di utilizzare il nostro know-how, la nostra esperienza nell'aiutare l'abbassamento, l'abbattimento delle emissioni, quindi risparmio energetico. E giusto qualche elemento di contesto per capire che cosa ci stiamo muovendo, in quale ambito ci stiamo muovendo. Intanto in Italia ci sono circa 40 milioni di autoveicoli, una buona parte ancora di proprietà e di questi 40 milioni di autoveicoli la cosa che sorprende è che la media è 11 anni, quindi sono un numero importante di veicoli che sono ancora Euro 3 e Euro 4 e quindi insomma la questione è quando riusciamo a modernizzare la cosa, quindi questo è il nostro obiettivo. Vogliamo farlo da pionieri, siamo leader di mercato in Italia e quindi magari non tutti sanno ed è importante dirlo che noi operiamo ogni giorno decine di migliaia di veicoli in tutta Italia, da Bolzano, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia e quindi è fondamentale mettere, vogliamo mettere a servizio della collettività la nostra esperienza, questa esperienza che è maturata in 70 anni di market leadership e quindi voglio fare un appello, insomma prima di passare al progetto vorrei però fare un appello e passare due tre messaggi, abbiamo bisogno di tutti, questo è un progetto che si fa insieme, da soli non andiamo da nessuna parte, abbiamo bisogno delle istituzioni, la nostra mission, il nostro statement è quello di lavorare con i nostri clienti, soprattutto gli individui, quindi i nostri clienti, le aziende che collaborano con noi, che sono i nostri clienti, ma soprattutto con le istituzioni nazionali e locali per poter erogare un'esperienza di mobilità, di trasporto che sia sicura, per macchine moderne ma in tempi di Covid sicura anche dal punto di vista proprio della trasmissione del virus, veloce, digitale, contactless, efficace, accessibile ma soprattutto sostenibile e qui passiamo alla sostenibilità e chiudo su questo dicendo la sostenibilità è fondamentale ma ci sono ancora delle barriere da rimuovere, non è così intuitivo, la domanda ancora di veicoli elettrici è bassa e per crearlo dobbiamo lavorare tutti insieme, quindi quando parliamo di c'è una dinamica di stimolo della domanda, c'è una dinamica di incentivi, c'è una dinamica di infrastrutture che devono essere generate insieme, ci sono dei finanziamenti che si possono utilizzare per rendere questo, per finalmente portare a scala questo tipo di veicolo e quindi il nostro lavoro nel futuro sarà quello sempre più di accostare il prodotto e il potenziale utente e consumatore con l'aiuto di tutti, pubblico e privato. Grazie Gianluca, Gianluca rimani con noi così supporti Lorenzo nel team, Lorenzo a te i tuoi due minuti per raccontarci come state lavorando. Allora buonasera a tutti, io sono Lorenzo Paoloni del team 2B e ci terrei subito a ringraziare tutti i membri del team, CEO4Life, l'università, in particolar modo il nostro dottor Testa e a tutto il team Avis per la disponibilità a collaborare e l'entusiasmo dimostratoci in tutti gli incontri. Nell'ultimo mese abbiamo avuto modo di confrontarci settimanalmente al fine di elaborare una value proposition che fosse in linea con gli obiettivi della missione 2 del PNRR, ne sta scaturando un progetto ambizioso quanto innovativo con il quale Avis vuole sposare l'impegno di indirizzarsi verso una mobilità a zero emissioni. Essendo Avis una multinazionale leader nel settore del noleggio auto, nel corso di questi incontri ci siamo focalizzati sul tema della green mobility, nello specifico ci siamo interrogati su come stimolare la domanda di noleggio di veicoli elettrici da parte soprattutto dei giovani. Il punto di partenza del progetto è quello di creare una community interattiva partendo dall'organizzazione di percorsi formativi al fine di sensibilizzare e informare i giovani sulla tematica della mobilità sostenibile in generale, in tutte le sue forme, accompagnando gli studenti nella scelta di una mobilità intelligente. Durante gli incontri di queste settimane abbiamo ragionato sulle funzionalità della Avis, come queste potrebbero essere implementate, una digitalizzazione di alcuni servizi offerti potrebbe rappresentare un incentivo e spingere al noleggio di auto elettriche tramite un fidelity program che premi la scelta di veicoli elettrici, una mappatura di colonnine, fino ad arrivare a una possibilità di pagamento condiviso volto a attirare i clienti più giovani. Successivamente al noleggio poi gli studenti verranno coinvolti in un processo di post community basandosi su content sharing informativo da parte dell'azienda che coinvolga tutti gli utenti e un content sharing attivo invece che promuova l'interazione social degli utenti. Questo è un punto di partenza, un punto di partenza di un progetto che ha l'obiettivo di creare valore per l'azienda ma per la società tutta. A nome di tutto il gruppo siamo entusiasti di poter collaborare con un gruppo come Avis Budget al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi e stringenti quali quelli indicati dall'Unione Europea. Quindi ringrazio tutti per l'attenzione e colgo l'occasione per augurare un buon lavoro a tutti. Grazie, buon lavoro. Grazie Lorenzo, grazie Gianluca.